Salve a tutti bentornati sul canale, oggi andiamo a fare la nostra analisi più approfondita su Bitcoin perché siamo arrivati 1. di nuovo a toccare il top più forte dell'armata 2. andiamo a cercare di studiare la situazione degli halving andiamo a studiare le correlazioni del passato la volatilità come si è sviluppata nel tempo andiamo a cercare di studiare i drawdown tutto questo oggi in questo video mi raccomando spolliciate per sostenere il canale iscrivetevi per restare sempre aggiornati andiamo a studiare Salve a tutti bentornati sul canale e andiamo a vedere che per chi mi segue già da tempo sulla nostra piattaforma potete vedere che la correlazione positiva da marzo 2020 dal crollo Covid è rimasta perenne con il Nasdaq questa è stata soprattutto generata da ingressi istituzionali ma anche da un altro fattore molto importante vi faccio vedere lo studio sulla volatilità di Bitcoin nel primo halving scusate la volatilità ovviamente era molto piatta come vedete queste curve si appiattiscono quindi sono molto larghe tanto più diventano strette tanto più la volatilità è ristretta quindi era molto alta in comparazione anche con Apple, Nvidia e Netflix dal secondo halving iniziamo già a ridurre la volatilità anche in comparazione con Tesla e Spotify Gold come potete notare PayPal che in queste fasi avete visto è peggio di Bitcoin e anche Facebook abbiamo visto come ha fatto un mega scarico nel terzo halving Bitcoin è uguale e identico comunque molto vicino alla volatilità del Nasdaq e dell'SP questo ci fa capire che la liquidità entrante ha dato ed ha sempre più equilibrio meno volatilità questo è un dato sicuramente importantissimo anche i drawdown in comparazione con il Nasdaq non siamo molto lontani il Nasdaq ha avuto il suo 80% di drawdown alla crisi del .NET nel 2000 come ha avuto anche Bitcoin nel passato dei drawdown dell'80% andiamo a cercare di fare il quadro adesso della situazione partiamo ovviamente dal fatto che la ciclicità degli halving di Bitcoin hanno dato spesso delle informazioni chiave cerchiamo di capire se anche questa volta ci sono delle informazioni che possiamo capire cioè il peggio degli halving non è ancora arrivato nel passato questi erano il periodo peggiore per quanto riguarda la ciclicità sugli halving quindi attenti potremmo essere ancora in presenza in fase di debolezza se così sarà confermerà la mia analisi logaritmica che vi mostro nell'immediato attivando la mia analisi che vi mostro spesso di questo canale logaritmico portando così Bitcoin a questa struttura base o anche in lateralità fino alla struttura base per poi trovare il punto di possibile ripartenza questo è uno scenario poi se lo andiamo a guardare a livello lineare e togliamo queste linee vi faccio vedere che abbiamo intanto raggiunto un livello chiave a livello di raggi di Fibonacci quindi il ventaglio siamo arrivati attualmente al 0,50 il primo scarico fu salvato dalla scusate il 0,50 adesso siamo al 0,61,8 il primo scarico fu intercettato dal 0,50 il secondo scarico adesso sta arrivando al 0,61,8 che è il livello aureo di Fibonacci se vi faccio vedere invece a livello di fork si può notare che abbiamo questo mega canalone dove qui abbiamo l'unione di tutti questi minimi che combaciano perfettamente qui come anche qui e ora stiamo toccando esattamente questo livello se lo guardiamo invece a livello daily c'è un altro fork da evidenziare che ci mostra invece che abbiamo la rottura di un livello mi abbasso il time frame e a livello daily abbiamo questa struttura di resistenza, supporto, resistenza, supporto idem sotto che però stiamo per perdere se oggi non ci sarà una reazione è un reingresso in questo livello quindi questo è sicuramente anche da tenere d'occhio se andiamo a guardare invece a time frame ancora più bassi quindi cerchiamo di capire qual è l'andamento a livello time frame più volatili abbiamo anche qui un fork di un canale discendente che ci ha dato questi supporti che abbiamo riconquistato queste resistenze che hanno fatto da supporto che poi hanno riportato il prezzo all'interno fino a riportarlo a percorrere questo canale che ora abbiamo riconquistato come abbiamo fatto a riconquistare questo livello? indovinate qui sotto che cosa c'è ve lo mostro subito abbiamo questi due livelli cioè il POC più forte che attualmente ha riportato il prezzo all'interno del 30 minuti dentro quel canale cosa dobbiamo aspettarci a quei time frame? ovviamente partiamo da time frame bassi poi ci rispostiamo a time frame più alti a time frame 30 minuti dobbiamo riuscire a ritornare intanto la parte alta della struttura quindi questa è sicuramente la prima conquista che dobbiamo fare poi dobbiamo iniziare a rompere dei livelli chiave e ovviamente qui ci saranno accumuli di volumi che hanno innescato questo scarico quindi questi saranno i primi livelli da dover rompere tra cui anche questa resistenza qui questo è a livello time frame più bassi ovviamente però per adesso il POC più forte è esattamente lui il motivo di questa reazione come si può ben notare se ci alziamo invece di time frame a 30 minuti ovviamente dobbiamo cercare di stare di nuovo all'interno di questo livello quindi oggi dobbiamo cercare di rientrare qui per non perdere la liquidità che avevano conquistato questi buyers dobbiamo riuscire a riconquistare questi che potenzialmente se ci riusciamo oggi sarà una grandissima vittoria ma è molto remota come cosa un'altra cosa che invece si può notare è che la total market cap siamo anche qui per rompere un livello chiave di supporto dinamico supporto statico e POC più forte che se perdiamo anche qui sarà un gran problema e anche per quanto riguarda la dominance di Tether che sapete benissimo che ogni volta che abbiamo raggiunto questo livello se invertiamo questo grafico ci dà esattamente l'andamento di Bitcoin quindi se questo lo perdiamo la liquidità si sposta sulla stablecoin in protezione visto che Bitcoin potrebbe perdere in queste fasi la partita quindi occhio siamo ai livelli più importanti in questo momento è domenica quindi la volatilità la liquidità potrebbe essere anche più scarsa in questi giorni ci sono stati mega scariche come potete vedere e prese di liquidità molto importanti oggi però bisogna riuscire a riconquistare qualche livello dopo aver toccato il POC più forte che se in questo momento non è lui che darà una reazione potremo andare a ritestare la base di tutto questo volume che sarà ovviamente l'ultimo salvataggio di Bitcoin un bel like per questo studio che vi ho portato oggi spero che sia di aiuto mi raccomando spolliciate come se non ci fossero domani a voi non costa niente me invece aiutate tanto il canale vi ringrazio iscrivetevi se siete nuovi ciao a tutti da Massimo Rea grazie a tutti grazie a tutti